Gigi a tutti ragazzi, sono Elien e bentornati a Surpresent il Bungie Weekly Update, il format settimanale suddiviso in due parti, di cui nella prima vi parlo delle ultime novità del Bungie Weekly Update, una rubrica che ogni settimana Bungie pubblica sul suo sito, link in descrizione, e dove vengono trattate le ultime novità su Destiny. Mentre nella seconda parte del video mi concentro su Zur, il venditore di esotici, vi mostro la sua location e provo a darvi consigli sugli acquisti con eventuale mini recensione al volo di ciò che vende. Ricordo che Zur è disponibile ogni settimana dalle 11 del venerdì fino alle 11 della domenica. Bene dunque, il Weekly Update di questa settimana non sarà particolarmente ricco, per cui andrò subito al dunque. Da martedì 2 giugno torno allo standardo di ferro con alcune novità. Ci saranno i nuovi stivali e i guanti dello standardo di ferro, il nuovo fucile a fusione, il nuovo fucile da ricognizione, e chiaramente la luce eterea in palio, come già preannunciato da Bungie nei giorni precedenti. In ogni caso ricapitoliamo quali saranno le novità del nuovo standardo di ferro. I guardiani del rank basso dello standardo di ferro presenti appunto sui nostri account riceveranno un boost al potenziamento così da raggiungere più in fretta la reputazione dei nostri guardiani più altolocati, reputazione standardiana parlando. Quindi se abbiamo, non lo so, il nostro personaggio principale a grado 3 e gli altri due a grado 0, quegli altri due riceveranno un'accelerazione di reputazione così da far raggiungere il grado 3 anche a loro. Le ricompense saranno meno costose, quindi costeranno meno lumen, alleluia, potremo quindi acquistare più roba senza dissanguare il nostro portafoglio virtuale, visto che c'è crisi. La luce eterea è disponibile all'acquisto al grado 3 e al grado 5 dello standardo, presumo quindi che una volta raggiunti questi due gradi si possa acquistare la luce eterea dal Lord Saladin e penso solo una volta con ogni personaggio. L'armaiolo riforgerà le armi dello standardo di ferro, i livelli armatura e armi conteranno ancora di più della passata edizione, quindi sarà importante essere quanto di più alto livello possibile con le armi quanto più alte possibili. Il Calderone e Pantheon, due mappe crogiolo che erano esclusive dell'espansione e l'oscurità dal profondo, ora disponibili per tutti, sono state aggiunte alle playlist insieme ad Exodos Blue, mappa esclusiva PlayStation. Bene, cosa molto importante, il team di Bungie al corrente delle seguenti criticità. Ecco la lista di ciò che stanno seguendo. L'errore olive e altre disconnessioni randomiche dal crogiolo, il fatto che gli emblemi di mercurio, quelli che sbloccate quando fate 9 vittorie di fila nelle prove di Osiride, non compaiono negli inventari, presente, non ho quell'emblema perché lo spazio dell'inventario era finito, il farming delle chiavi del tesoro, forse stanno pensando a nuovi modi con cui farmare le chiavi del tesoro, appoggio completamente, il problema delle sintesi che si ammassano negli inventari, le taglie, le navi e gli shaders della prigione degli anziani che non vengono date, amen per 10.000 e alcuni scontri con alcuni boss nelle prigioni, forse alcuni sono sbilanciati o forse buggati. Stanno preparando anche la patch 1.2.0.2, chiaramente i dettagli saranno rivelati quanto prima. Bene, è tutto per questo Weekly Update, ora passiamo all'analisi di Sur. Bene, iniziamo con Cimiero del Lupo Alpha, un pezzo armatura torace per titani, non si rivolge a nessun tipo di titano in particolare, cosa fa questo pezzo di armatura? Aumenta la quantità massima di munizioni trasportabili per i fucili automatici e la quantità di munizioni massima trasportabili per le armi speciali. Il Custo del Branco vi permette di rianimare i compagni di squadra più velocemente, vi fa rianimare dai compagni di squadra più velocemente. Inoltre, quando usate una super, genererete più sfere di luce. Questo è un pezzo di armatura torace, secondo me, fondamentale se avete intenzione di giocare le prove di Osiride, che ricordo torneranno questa sera a partire dalle 19. Quindi un pezzo torace fondamentale se volete giocare di squadra, quindi alle prove di Osiride. Compratelo se non lo avete già. Simbionte a Cleofago, un elmo per cacciatori, si rivolge ai cacciatori pistoleri, pistola d'oro, quindi aumenta la distanza di lancio di una granata, ripristina la super energia quando si uccide un nemico con una granata, quindi ve la fa caricare prima, la pistola d'oro ottiene un colpo in più per ogni utilizzo. Quindi normalmente la pistola d'oro ha tre colpi, con questo elmo ne guadagnerete un quarto. Ora, è un elmo soprattutto utile nel PvP quando giocate modalità tipo controllo o scontro, quindi modalità che prevedono molti nemici da affrontare, quindi è un elmo che sicuramente consiglio per il PvE, non è malaccio, preferisco il falconotte, onestamente, comunque in PvP questo è un elmo che secondo me ogni cacciatore dovrebbe avere, ogni cacciatore appunto che usa la build pistolero, quindi ripeto, io posso garantire che un colpo in più alla pistola d'oro fa sempre, fa sempre bene. Come vedete qui abbiamo manette del nulla, sono dei guanti lunghi per stregoni, si rivolgono agli stregoni camminatori del vuoto, sono stati introdotti con il casato dei lupi, allora, aumenta la distanza di lancio di una granata, vi permette di recuperare le granate prima ogni volta che si raccoglie una sfida di luce, ma soprattutto aggiunge una nuova granata dispersiva, quindi ve ne fa portare due, e le granate dispersive a loro volta inseguiranno il bersaglio. Normalmente la granata dispersiva è la seconda tipologia di granata dello stregone camminatore del vuoto, cioè una granata che si divide in molteplici su proiettili e genera esplosioni in un'ampia aria. Ora, per quanto riguarda quest'ultima parte non sono molto d'accordo, l'aria non è poi così vasta come descritto, onestamente non ho ancora provato in prima persona questi guanti, se avete un bel po' di strane monete e non sapete cosa farvene, beh, io vi consiglio di acquistare eventualmente per provare. Da quello che ho visto in giro comunque sembra una versione simile al dardo assionico, solo che il dardo assionico mi sembra un tipo di granata che onestamente preferisco rispetto a questa versione modificata. Quindi, ripeto, vi permette di portarvi un'altra granata dispersiva. Le granate dispersive in PvP le ho viste, non sono malaccio, però forse fanno lievemente più male dei dardi assionici, però non credo che sacrificherei mai uno slot esotico per questo paio di guanti. Poi, ripeto, potrei anche sbagliarmi, non li ho ancora provati. Se ci avete le strane monete, vi consiglio di provare. E veniamo all'arma di questa settimana, Tempo e Pazienza. Tempo e Pazienza è un fucile da precisione con danno ad arco, ad arco, quindi utile per scolas, lo dico già adesso. A parte i soliti perk che migliorano stabilità, impatto, gittata, con il solito gioco, abbiamo come perk terzo occhio, quindi mirare quando si usa il mirino il radar rimane attivo, ma soprattutto mentre si guarda nel mirino ci si mimetizza, cioè si diventa invisibili e farà diventare invisibili chiunque, non solo i cacciatori, qualsiasi classe, mentre mira con questo fucile da precisione diventerà invisibile. Ora, come vi ho anticipato prima, scolas questa settimana ha i danni ad arco, quindi se non avete nessun tipo di fucile da precisione che servirà come il pane contro scolas questa settimana, vi consiglio di acquistarlo, anche perché non ha forse un impatto altissimo, ma non è anche poi così tanto male. Considerato che potete aggiungere un po' di munizioni, io, ripeto, vi consiglio il tempo a pazienza, perché specialmente quando mirate diventate invisibili, ed essere invisibili significa non essere rotti di scatole, come si dice, scusate, in maniera volgare, dai caduti, dai cecchini, che vi ricordo possono sciottarvi quasi con un colpo. Passiamo a frammento esotico, vi ricordo che il frammento esotico serve per potenziare, ve ne serve uno per potenziare la vostra arma armatura droppata dal 19 maggio in poi, ve la fa arrivare a 365 di attacco o livello 34, per i vecchi equipaggiamenti droppati prima del 19 ce ne vogliono due, uno per portarlo da 301 a 331 e l'altro da 331 a 365. Qui abbiamo engramma esotico, vi ricordo che per 23 strane e 23 particelle di luce vi portate a caso un engramma esotico e vi darà un oggetto randomico, in questo caso potrete far uscire dei guanti randomici, quindi se usate un cacciatore non è detto che vi vengano fuori guanti per i cacciatori. Le particelle di luce, vi ricordo, si fanno in vari modi, ma come vedete qui da Azure potete scambiare due strane monete per avere una particella di luce oppure potete portare i frammenti ascendenti dall'oratore e ve li scambierà in cambio di particelle di luce. Qui abbiamo le telemetrie, sono oggetti che se voi acquistate uno di questi per 30 minuti la applicate a una classe di arma, l'arma avrà un boost, quindi l'esperienza ricevuta su quell'arma sarà maggiore, quindi farete salire, in questo caso, il fuggile di ricognizione prima. Qui abbiamo i propulsori, sono oggetti che si applicano ai vostri astori rari, quindi blu, trasformano il vostro astore raro a leggendario, aumentano la velocità di resistenza e cambiano il colore della scia. Qui abbiamo le sintesi pesanti, mai stare senza, al costo di una strana munita speciale adesso con questi ultimi boss che vogliono munizioni, vogliono sintesi pesanti a gogo, mi raccomando, compratevele. Bene, siamo al momento dei saluti, oramai un appuntamento fisso con questa rubrica, saluto Caprone00, detto il Capri, LOL, MatteoXNextGen64X, Davide, detto PE31999, TheRevisBloody, ProniaChanIta, detto Francesco, e Costi001. Infine saluto Lisa, o meglio, le porto i miei saluti da parte di Alessandro Danna, esatto, faccio anche il dottor stranamore, a meno che non sia tua sorella Alessandro, ma ne dubito fortemente, buona fortuna con lei, approvo il matrimonio nel caso. Beh, e come detto, saluto tutti voi, grazie per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, love and peace. That came from the moon. That came from the moon.